Pronto? Si pronto salve cercavo la signorina Si puoi parlare anche con me Benissimo salve e purtroppo c'è stato un piccolo risguido per un ordine Senta dobbiamo semplicemente chiudere la procedura per poter annullare l'ordine Ma ordine di che foto mi faccio capire? Allora era una ciclette in fibra di carbonio Una ciclette in carbonio? Mia moglie potrebbe anche darsi Dobbiamo semplicemente registrare l'annullamento e blocchiamo tutto Perché purtroppo altrimenti verrà tutto scalato dal credito telefonico Sono più di 2.000 euro a questo punto Per bloccare basta semplicemente segnare un codice che le viene richiesto Abbiamo finito qui Eccolo qua benissimo benissimo Allora segni pure il codice 1000 codice Allora il codice è 69 69 Piocciolina Cancelletto 23 Mela Mac o Windows? Mac Windows No no dico lei ha Mac o Windows? Windows Allora metta pera Va bene Molto bene adesso verrà ricontattato e le verrà richiesto il codice Le passo la nostra superiore un attimo eh La metto la tua in attesa Sì Quanto? Sono Elisa Forse l'ha ancora fatto di mia sorella Elì ma vaffan***** Ciao a tutti siete su tutti i pazzi per RDS Sei su tutti i pazzi Abbiamo rovinato la famiglia Speriamo che possa tornare l'amore fra di voi Ciao Quanti vuoi comprare su Amazon? Che ci cambia ancora E non scherzi anche tu? Vai nella sezione di tutti i pazzi su RDS e Btwit